Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo unboxing riguardante il sito Aliexpress. Ho ordinato due stetoscopi, l'ordine è stato fatto il 6 giugno, è stato spedito dal venditore il 10 giugno ed è arrivato il 2 luglio. Ci sono voluti quindi 26 giorni. Il prezzo pagato è di 6 dollari e 20 ma avendo preso due stetoscopi il prezzo per ciascuno era di 3 dollari e 10 quindi circa 2 euro e 26 a stetoscopio. Il venditore ha dichiarato l'oggetto stranamente non come gift ma come other, altro. È la prima volta che mi capita. In genere dichiarano tutti le merci come gift. Questo venditore non l'ha fatto ma non cambia nulla. Ha dichiarato la merce come elettronica ed ha dichiarato un valore di 5 dollari, quindi appena poco inferiore rispetto al prezzo pagato che era di 6 dollari e 20. La spedizione è avvenuta con China Post, non tracciabile. Il venditore mi ha solo fornito un codice che provava l'avvenuta della spedizione ma io non sapevo quando il pacco sarebbe arrivato quindi non ho avuto modo di sapere la data di arrivo del pacco che però è stato abbastanza rapido per essere non tracciabile. 26 giorni. Va bene, andiamo ad aprire il pacco. uno e due. Questi sono i due stetoscopi ordinati, tutti e due di colore nero. Stetoscopi. andiamo ad aprirne uno. è smantato quindi dobbiamo montarlo. A cosa serve uno stetoscopio? Lo sappiamo tutti. Serve ad ascoltare le conversazioni dei vicini. Sto scherzando naturalmente. Serve ad ascoltare i suoni provenienti dal torace. quindi battiti cardiaci, respirazione. Mantiamo il tubo. uno. 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 e questo è lo stetoscopio ordinato. Il colore si può utilizzare. si poteva scegliere. Io l'ho scelto nero perché sembra un po' più serio. e c'era anche blu o rosso. La qualità è abbastanza buona. Me l'aspettavo peggiore. poi vi scriverò se svolge bene la sua funzione. questo è l'altro che è inutile che vi mostro perché è uguale. bene. Per l'unboxing di oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Vi lascerò il link dell'oggetto nelle informazioni del video qui sotto. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo perché viene sempre aggiornato con nuovi unboxing. Bene. Per questo video è tutto. E ci vediamo al prossimo unboxing.